28A. Egyes feladat. 29A. Eccoli. 40A. Senti, hai visto il portachiavi? Era sul tavolo e adesso non c'è più. 40A. Eccolo. 51C. Chissà dove ho messo la cravatta verde. 51Eccola. 52C. Sei. 51C. Senti, dove sono le scarpe nere? 52C. Eccole. 53C. E sulla tua scrivania? 53C. Francesca, non trovo la chiave della macchina. Tu l'hai vista? 53C. No, non l'ho vista. Forse è nella tua cartella. 54C. No, lì non c'è. 53C. Ho già guardato. E sulla tua scrivania? Sotto una lettera, per esempio, o tra i giornali, oppure... Eccola. L'ho trovata. Era accanto al telefono. 28B. Egyes feladat. 1. Questa è la mia scrivania. 2. Sotto la scrivania, normalmente c'è la mia cartella, ma adesso la cartella è sulla sedia. 3. La sedia è accanto alla porta. 4. Il gatto che lei vede è tra la sedia e la scrivania. 4. È libero il posto vicino al finestrino? 4. Buongiorno. È libero il posto vicino al finestrino? 5. Sì, prego. 5. Lei è torinese? 6. Sì, sono torinese. 6. Io sono calabrese, di Catanzaro. 6. Però vengo volentieri a Torino. Ci vengo tutti gli anni. 7. Sa, ho una figlia che lavora qui a Torino. 7. Già, quando i figli sono lontani. 8. Eh sì, ma sono vedova, già da alcuni anni. 8. E così ho tempo di andare a trovare i miei figli. 9. Allora neanche gli altri figli stanno a Catanzaro. 9. No, sono un po' dappertutto. 10. Isabella, la più giovane, è in Germania, a Heidelberg. 10. Sono andata a trovarla l'anno scorso. 11. Ma perché non vieni? 11. Massimo, ma perché non vieni? 12. È tardi. Il film inizia tra mezz'ora. 13. Non trovo gli occhiali. E senza occhiali non vedo abbastanza. 13. Tutte le volte che usciamo ti metti a cercare qualcosa. 14. Il portafoglio, la chiave della macchina, cerchi dappertutto, in tutta la casa e… 14. Ma perché ti arrabbi? Aiutami piuttosto! 29b. Eggiasi feladat. 1. Ho invitato gli amici al bar. 2. Ho passato il fine settimana in casa. 3. Ho provato le camicette che c'erano. 3. Ho provato tutte le camicette che c'erano. 4. Ho incontrato la famiglia. 5. Ho incontrato tutta la famiglia Renzi. 5. Ho mangiato l'arrosto che era nel frigorifero. 5. Ho mangiato tutto l'arrosto che era nel frigorifero. 6. Conosco tutte le amiche di mia suocera. 7. Quest'anno voglio vedere gli spettacoli moderni. Quest'anno voglio vedere tutti gli spettacoli moderni. 6. Le è piaciuta Heidelberg? 7. Le è piaciuta Heidelberg? 7. Sì. È una bella città. 8. Ma sua figlia è a Heidelberg per lavoro o per studio? 7. Per studio, per studio. Vuole diventare traduttrice. 8. Sa il tedesco, il francese e l'inglese. 8. Ho anche un figlio che sa il tedesco. 9. Lui è chimico e ha trovato lavoro in Svizzera, a Basilea. 10. Gli piace stare in Svizzera, però appena può viene a trovarmi. 9. Lei quindi ha tre figli? 9. No, ne ho quattro. Due figlie e due figli. 10. Ho ancora un figlio a Roma. Lo vedo raramente, purtroppo. 10. Sa, fa l'avvocato e il suo lavoro lo impegna molto. 11. E lei che lavoro fa? 11. Sono sociologa. 11. Il mio dentista è molto gentile. 11. Ah, sì? 12. Ti piace il nostro professore? 12. Sì, lo trovo molto interessante. 13. 13. Tu, che cosa vuoi diventare? 14. Mi piacerebbe fare il medico. 14. Suo figlio è traduttore, vero? 15. No, fa l'avvocato. 15. Dì un po', a te piacerebbe fare l'impiegato. 15. No, io voglio diventare insegnante. 16. Quale lavoro non faresti mai? 16. La cameriera. 17. Che lavoro fa la tua amica Angela? 18. Angela? Angela è parrucchiera. 18. Scusi, è lei l'elettricista? 18. Sì, sono io. 18. Ha scritto Nicola. 19. Ha scritto Nicola. 19. Ha scritto Nicola? 20. Ah, sì? E cosa scrive? Leggi un po'. Marciana Marina, primo luglio. Caro Massimo, abbiamo trovato un bell'appartamento in una piccola casa vicino al mare e con un bel giardino per i bambini. Perché non venite a trovarci? C'è posto anche per voi. Un caro saluto a te e a Francesca, Nicola. 30b. Egyes feladat. 30. Fejezza. 31. Fejezza ki örömét, dicserjen és bókoljon. 32. Alkosson mondatokat a megadott főnevekkel és a bello melléknév megfelelően ragozott alakjaival. 33. Hallgasson meg egy példát. Giornata. Che bella giornata! 1. La giornata. Che bella giornata! 2. La vista. Che bella vista! 3. Il bambino. Che bel bambino! 4. L'albergo. 5. I sandali. Che bei sandali! 6. Le scarpe. Che belle scarpe! 7. Le arance. 7. Le arance. 8. Che belle arance! 8. Gli occhiali. 9. Gli occhiali. 9. Gli zainetti. 10. Che bello spettacolo!